Cari fratelli e care sorelle, in questo brano del Vangelo si percepisce tutto l'amore e la fratellanza che Gesù ha per i Suoi amici e fratelli nello Spirito. Gesù saluta i Suoi amici dicendo, pace a voi. Il Principe della pace saluta infondendo nei loro cuori la sua pace, la pace di un Dio, vera, pura ed essenziale. Si manifesta loro affinché possano credere alle sue promesse e alle parole profetate sul Cristo, per infondere in loro la luce e il coraggio santo per poter testimoniare la vittoria di Cristo sul mondo. Gesù è risorto. Alleluia! Alleluia! Con questo sentimento Gesù si manifesta come vero uomo e vero Dio, seppur trasfigurato nella gloria del Padre. Dà loro la dimostrazione tangibile della sua essenza e sostanza, mangiando con loro. Non abbiate paura, sono io. Noi non abbiamo paura, Signore, perché in questa casa hai preparato il nostro cuore nel tempo e per tempo, grazie all'amore e alle cure della Tua fanciulla, Maria Giuseppina Norcia, che ci ha accolto col sorriso e insegnato ad amarti con tutto il cuore e con tutto noi stessi, imprimendo dentro di noi la Tua immagine di bimbo Dio, rendendo così il nostro cuore consapevole della Tua vera immagine per essere forti e santi davanti ad ogni inganno del nemico di Dio. In Te e con Te vogliamo vivere e vincere, per proclamare il Tuo santo nome e condurre tutti a credere in Te unica salvezza e unico vero amore. In questa culla Ti abbiamo riconosciuto e amato, Signore, e vogliamo continuare ad amarti sopra ogni cosa. E insieme a Te, sospinti dal Tuo spirito di pace, amore, gioia e sincerità, vogliamo far trionfare la Tua Chiesa, una, santa e universale. Signore, Tu obbedendo alla volontà del Padre, hai offerto la Tua vita per salvare tutti coloro che in Te vivono, credono e amano. E hai instaurato con questa Chiesa la Tua alleanza di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, affinché si possa realizzare il progetto di amore e di redenzione voluto dal Padre per la salvezza delle anime. Signore Gesù, abbiamo atteso in città fino a quando il tempo è giunto. Ora che il Tuo spirito ha rivestito e santificato la Tua casa, questa dimora, come Tu hai detto, dalla Nuova Gerusalemme parte ed è partita la riscossa cristiana. Per portare nel cuore di tutti gli uomini e le donne di buona volontà la Tua luce, perché tutti possano comprendere la verità, abbracciarla e viverla. Così come allora, la speranza è che tutti possano aprire il cuore e la mente per comprendere l'azione viva dello Spirito che rinnova i cuori, per abbandonare ciò che è vecchio e abbracciare ciò che è nuovo, distaccarsi dalla sola tradizione, che vuole tenere legati i figli e non fa vivere invece ai figli la freschezza della vera fede, che va ben oltre tutto ciò che è apparenza, perché se ci si lascia plasmare dalla vero amore che rivitalizza i cuori, in una comprensione spirituale vera ed essenziale della fede in Cristo Signore, si può avere l'entusiasmo e la certezza di accogliere il messaggio di speranza che da questa terra il Padre, tramite il Figlio, nuovamente ha concesso a questa umanità, per essere rinnovata nell'intimo e avere il coraggio di lasciarsi rinnovare e rinascere dall'alto. Forza, cari fratelli, forza, cari giovani, portate a tutti questo annuncio di pace e di amore nel nome di Gesù. Tornate in questa terra non per creare un club esclusivo, ma per radunare tutti, affinché tutti possano conoscere e riconoscere Gesù come l'unico vero amico, l'unico vero Signore, l'unico fratello, l'unico sommo bene. Continuate nella lealtà, nell'equilibrio santo, nell'ordine vivo, a testimoniare con il vostro esempio di vita Gesù, colui che solo ha parole di vita eterna. Come hanno fatti i primi fratelli, i primi apostoli, che si distinguevano per l'amore che riuscivano a scambiarsi e a donare agli altri, con lo stesso atteggiamento ed esempio di vita, siate credibili anche voi, per far credere tutti in questa nuova e rinnovata novella che condurrà tutti verso il compimento finale che è la vita eterna. E così sia. Dio Padre Onnipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. grazie a tutti. Grazie a tutti